A grappoli Vieni, vieni e vedi di farci perdere poco tempo Allora, quest'affare che tu vendi per 50 euro, che cos'è? E come sa, che volete che vi dira? Eh, un botto E a che serve? Questa, può buttare giù un muro E disintegrare una mano E quest'altro che? Un razzo E a che servirebbe questo? Questo può far saltare un occhio Allora, tu lo sai che ogni anno decine e decine di bambini vengono feriti da robaccia come questa, che voi vendete Quest'anno che fai? Li fai sparare a tuo figlio? Evitiamo i botti illegali A Capodanno Più sorrisi e nessun rischio